In acqua la prima serie, l'ultima del manichino pinnettor pelo Siamo in questo momento alla metà di gara, andiamo a vedere il passaggio Molto bene dalla corsia numero 5, Federica Volpini Dalla corsia numero 3, Valeria Cappelletti Dalla corsia numero 4, Rossella Pignani Queste le atlete al comando a metà gara Siamo in chiusura Vince in 57,90